La delegazione guidata dall'assessora Maraschio con la partecipazione tra gli altri della QP è stata accolta da Saif Bader al-Kubaisi, il direttore generale della Municipalità di Abu Dhabi, che ha manifestato un forte interesse rispetto alle misure adottate dalla Regione Puglia in materia di economia circolare. Nel solco di questi principi di sostenibilità è stata espressa forte attenzione alle innovazioni tecnologiche di settore illustrate dagli operatori economici che hanno accompagnato la delegazione. Al centro degli incontri è anche il cambiamento climatico, tema di primario interesse per gli anni a venire. Da qui nasceranno dei rapporti anche di collaborazione, hanno garantito la loro partecipazione, la loro visita in Italia. Questo ha davvero assiglato un accordo significativo per noi. È stato molto importante rappresentare la realtà dell'acqua d'Otto Pugliese e il fatto che i due oceani non sono un aspetto divisivo ma sono un aspetto di unione. Con Abu Dhabi, con gli Emirati, noi abbiamo in comune il tema della scarsità delle risorse dell'acqua, la necessità di rispettarla, di usarla e di recuperarla bene. Un particolare interesse ha suscitato nel direttore generale della municipalità il tema del riutilizzo sia dell'acqua che dei fanghi e la capacità che noi possiamo avere di far crescere generazioni tecnici e di vedere conoscenza anche con la nostra Copywater Academy.